Sudazon. Il commento di Andrea Stramaccioni sulla vittoria dell'Inter nel derby sabato sera. L'ex allenatore di Nerazzurri ha parlato in particolare dell'esibizione degli scioperanti Nerazzurri. Era la prima volta che ho visto Turam suonare dal vivo. Ho seguito le gare in Germania e l'avevo visto giocare con la Francia. Credo che con due consigli sia l'ideale per lui e aumenta il suo valore. È libero di muoversi nello spazio in cui considera che ci sia un buco nella squadra avversaria e Lautaro riempie la penalità area. Non lo lascia mai scoperto. Quindi il valore di Turam decupia.